I centri vaccinali non vanno chiusi. I vaccini ci sono e la campagna deve subire un'accelerata. Il problema di agosto è che non ci sono cittadini che vogliono vaccinarsi, ma i medici ed il personale ci sono e devono tenersi pronti, anche perché bisogna proteggere i ragazzi e la popolazione studentesca se si vogliono aprire le scuole in sicurezza ed in presenza. E per venire incontro a chi ad agosto ha programmato le sue vacanze, in campagna ci si attrezza. Si aprono i centri vaccinali mobili sulla fascia costiera, perché l'unico modo per proteggersi è vaccinarsi. Ce ne usciamo se siamo responsabili. I vaccini ci sono. C'è stato un rilassamento nei mesi passati, anche per responsabilità nazionali, perché la comunicazione che hanno fatta due mesi fa è stata demenziale. La mescolanza dei vaccini sopra i 60 anni, sotto i 60 anni, non si è capito niente. Per cui è evidente che questo ha creato un clima di confusione che ha allentato l'attenzione. Adesso le cose sono state chiarite, si somministrano solo vaccini, Pfizer e Moderna, cioè vaccini sicuri. Lasciamo perdere le scemenze che racconta qualcuno. L'unico modo del proteggersi è vaccinarsi e dobbiamo farlo di più per la popolazione studentesca, se vogliamo aprire le scuole in sicurezza. Il problema è che non ci sono iscritti alla vaccinazione. I medici ci sono, non vi preoccupate. Se avessimo 5.000 cittadini che vogliamo vaccinarsi, li apriamo anche la notte. Adesso pensi che stiamo aprendo i centri vaccinali mobili sulla fascia costiera, Camerota, Palomino, eccetera, proprio per venire incontro ai cittadini.